Ciao a tutti e benvenuti. Questo è il video che apre la playlist di chimica. È un video che è decisamente introduttivo e che ricorda molto il video introduttivo che ho realizzato per la playlist di fisica del primo biegno in quanto si parla di grandezze fisiche. La chimica è la scienza che studia la composizione, la struttura e le trasformazioni dei materiali. Ma come possiamo conoscere la composizione e la struttura dei materiali? Per studiare le leggi che governano la natura, la chimica e le altre scienze sperimentali hanno bisogno di grandezze che possono essere misurate mediante strumenti. Le grandezze che si possono misurare si chiamano grandezze fisiche. Il sistema fondato su sette grandezze fondamentali è il sistema internazionale di unità. E queste sono le sette grandezze fondamentali. Lunghezza con unità di misura metro, il tempo con il secondo, la massa con il chilogrammo, la corrente elettrica con gli ampere, la temperatura e il kelvin, la quantità di sostanza e la mole, molto importante in chimica, e l'intensità luminosa o candela. Non sempre però le grandezze sono espresse con le unità di misura del sistema internazionale. Noi sappiamo che il volume ad esempio che dovrebbe essere misurato in metri cubi viene spesso misurato in litri o millilitri. Dalle grandezze fondamentali poi si ricavano tutte le altre grandezze che sono dette così grandezze derivate. La misura. Misurare una grandezza vuol dire fissare un'unità di misura e stabilire quante volte questa unità è contenuta nella grandezza data. Molto spesso nelle misurazioni noi utilizziamo multipli o sottomultipli di una determinata unità di misura e in chimica soprattutto si ha a che fare con quantità molto molto piccole. Ad esempio quando parliamo di dimensioni atomiche siamo soliti utilizzare dei nanometri piuttosto che dei metri. Ecco qui i prefissi principali dei sottomultipli e dei multipli. Nella chimica soprattutto utilizzeremo sottomultipli. Le grandezze si distinguono in estensive e intensive. Le grandezze estensive dipendono dalla quantità di materia presente nel campione che si vuole misurare. Sono ad esempio grandezze estensive la massa, il peso, la lunghezza, il volume, l'energia. Le grandezze intensive invece non dipendono dalla quantità di materia presente in un campione ma solo dalla natura del campione e dalle condizioni in cui esso si trova. Ad esempio densità e pressione sono grandezze intensive. Vediamo una carrellata di alcune grandezze importanti. Lunghezza e tempo. L'unità di misura della lunghezza abbiamo visto è il metro nel sistema internazionale che è un'unità molto grande per le dimensioni di atomi e molecole. Si usano come ho già detto in precedenza sottomultipli quale il nanometro e poi un'unità un po' strana che è l'engstrom molto utilizzata in passato ora molto meno che corrisponde un engstrom a 10 alla meno 10 metri. Il tempo nel sistema internazionale si misura in secondi. Sappiamo che a differenza degli altri multipli e sottomultipli che sono definiti per potenze di 10 i multipli del secondo utilizzano un sistema sessagesimale quindi un minuto costituito da 60 secondi, un'ora da 60 minuti e così via. Il volume. Il volume è una grandezza che deriva da una lunghezza, una lunghezza elevata al cubo. Come abbiamo visto in precedenza l'unità di misura è il metro cubo ma sono molto utilizzati i litri ad esempio. Un litro ricordiamo è un volume equivalente a un decimetro cubo, cioè un metro cubo equivalente a mille litri. La massa e il peso. La massa è la misura dell'inerzia di un corpo, cioè la misura della resistenza che il corpo oppone alla variazione del suo stato di quiete o di moto e si misura nel sistema internazionale in chilogrammi. In chimica molto spesso si utilizza il grammo al posto del chilogrammo. Il peso invece di un corpo di massa m è la forza con cui esso viene attratto dal pianeta o comunque dal sistema su cui si trova secondo la nota relazione forza peso uguale m per g dove g è proprio l'accelerazione di gravità. Essendo una forza il peso si misura in newton nel sistema internazionale. Veniamo ora alla pressione. La pressione è data dal rapporto tra la forza che agisce su una superficie e l'area della superficie stessa. Parliamo di forza perpendicolare e quindi definiamo P come forza perpendicolare diviso S. L'unità di misura è newton fratto metro quadro che prende il nome di pascal. Sappiamo che esistono altre unità di misura per la pressione che non sono tipicamente unità del sistema internazionale. Ad esempio l'atmosfera che corrisponde a circa 10 alla quinta pascal ovvero 101.325 pascal molto utilizzata in chimica e questa corrisponde anche all'altra unità di misura. Millimetri di mercurio un'atmosfera uguale a 760 millimetri di mercurio. La densità è una tipica grandezza intensiva ed è definita come il rapporto tra massa e volume e quindi si esprime in chilogrammi su metro cubo ma anche qui si utilizza spesso l'unità di misura grammi su centimetro cubo oppure per i gas il grammo su litro. La densità varia al variare della temperatura e della pressione. Quando si esprimono i valori della densità bisogna sempre specificare a quale temperatura e pressione questi valori si riferiscono. Energia e lavoro, temperatura e calore. Qui dobbiamo ricordare che l'energia può essere definita, una delle definizioni che si possono dare, è la capacità di un corpo di eseguire lavoro o di trasferire calore. Il lavoro fatto da una forza costante applicata a un oggetto che si sposta nella stessa direzione verso della forza è definito dalla nota relazione forza per spostamento. La temperatura, altra grandezza intensiva, è legata all'energia cinetica media delle particelle. Si misura in Kelvin nel sistema internazionale anche se molto spesso o soprattutto nella vita quotidiana noi utilizziamo i gradi Celsius e questa è la formula di conversione per passare dai gradi Celsius ai gradi Kelvin bisogna aggiungere alla temperatura in Celsius 273,15. Calore e temperatura sono cose diverse. Il calore è una forma di energia, energia termica, è energia di transito che si trasferisce da un corpo a temperatura più elevata a uno più freddo. Quindi è un trasferimento di energia tra due corpi che si trovano a temperature diverse. L'unità di misura per le energie e il lavoro è il joule che alcuni chiamano joule. Io preferisco utilizzare la pronuncia inglese che è joule. Per il calore è ancora utilizzata la caloria o ricordiamo che una caloria corrisponde a 4,186 joule. Questo breve video introduttivo termina qui, io vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare le notifiche per essere informati sull'uscita dei nuovi video. Vi saluto e alla prossima. Ciao!